Qui con noi questa sera, ai nostri microfoni, Andrea Dalvecchio, consigliere Ranformiche. Ciao Andrea. Buonasera, ciao Andrea. Ciao, ciao Andrea. Tutto bene? Tutto ok, grazie mille. Bene. Allora, ci stiamo ormai avvicinando all'evento, domenica 31 luglio, la Ranformiche Trail, Parco Wipfel, Follina. A che punto siamo Andrea? Siamo al punto che fermano i preparativi, ci sono le ultime decisioni da prendere sui vari ristori, le persone le abbiamo già trovate, i volontari lungo il percorso sono quasi tutti stati individuati e gli è stata assegnata anche la postazione. I ristori, ripeto, anche quelli sono già coperti. La prossima settimana e questo weekend andremo ad ultimare i tagli, delle erbace e dei rami lungo il percorso che abbiamo provato questa domenica passata. Bene. E niente, come preparativi poi la prossima settimana si entrerà nel clou portando tutto il materiale nel luogo al Parco Wipfel per poi il sabato preparare e allestire tutto quanto, insomma. Quindi un'organizzazione che è sempre in movimento, che sicuramente sarà pronta per domenica per questa seconda edizione della Run for Me che, se lo vuoi ricordare tu Andrea, presenta una novità importante. Esatto, quest'anno ci siamo fatti in due, abbiamo due percorsi, uno da 25 chilometri con 1700 metri e uno più corto, più fattibile, per il meno coraggioso, di 15 chilometri con 900 metri di livello. Quindi una doppia scelta per chi volesse andare a fare un trail un po' più corto, a seconda chiaramente delle proprie capacità e chi invece si vuole spingere un po' oltre. Esatto, esatto. I due percorsi sono molto belli, li abbiamo provati domenica, le due salite sono molto impegnative, i due percorsi si inerticano tra Miane e il comune di Follina e quasi tutto il percorso di entrambi i percorsi sono a Londra, direi che ci sono pochi trail in giro così, dove la maggior parte del tempo in cui si corre non si è sotto il sole, quindi direi che le persone possono, spero, che rimangano contente. Visto anche il periodo di grossa calura potrebbe essere un aiuto importante. Esatto, esatto, infatti. Dopo noi abbiamo vestito tre ristori più altri due punti d'acqua e quindi le persone possono stare tranquille che tra ombra e bevande soffriranno un po' meno il caldo. Nella precedente intervista fatta sia con Nicola Nardi e quella prima con qualche atleta avevano dato conferma Fabris, Geronazzo, anche la Possamai, c'è qualcosa all'orizzonte da questo punto di vista, Andrea? Dovrebbero essere confermati loro, altri atleti secondo me si iscriveranno all'ultimo perché il calendario è molto finito e quindi magari decideranno all'ultimo su quale manifestazione partecipare. Chiaramente, chiaramente. Un'ultima cosa e poi ti lascio se vuoi fare un invito a chi ancora non si è iscritto e volesse farlo per la Lanformiche. È una giornata, invito a tutti perché è una giornata di festa, è una giornata dedicata alla corsa, come ogni anno noi ci mettiamo il cuore per cercare di dare il meglio possibile a chiunque venga alla nostra manifestazione e chi ha già partecipato alle nostre gare e sa benissimo che le formiche quando si muovono si muovono molto bene e infatti la maggior parte delle volte sono rimasti tutti contenti perché si vede la vera sostanza, la vera passione per i trai. La natura e il senso di questo sport. Allora sono sicuro e certo che sarà così anche quest'anno in questa seconda edizione del Lanformiche, lo ricordiamo, domenica 31 luglio, Parco Vipfel, Folina, dalle 8 per il trail corto, 8.30 la partenza invece, chiedo scusa, dalle 8 il trail lungo, 8.30 la partenza del short trail, giusto? E niente, ringraziamo Andrea Dalvecchio, consigliere Ranformiche, auguriamo buon lavoro e buona organizzazione. Grazie mille e vi aspetto numerosi. Grazie Andrea, saluto da Andrea Della Libra per Streaming Sport.it, grazie Dalvecchio. Grazie a tutti.